Sai che puoi realizzare economicamente e facilmente immagini e video come questi qua? Per catturare quelle immagini ho usato un obiettivo montato al contrario. È una soluzione estremamente semplice ed economica che ti illustro in questo video e ti dico anche cosa fare e cosa ti consiglio di fare in circostanze simili quando si usa un'ottica appunto montata al contrario. Ma prima di continuare ti chiedo di lasciare un like e iscriverti al canale per scoprire nuovi contenuti e sopportarmi gratuitamente. Sto per dire sopportarmi anche, anche. Guarda un po' qui, ne ho costruito anche uno perché adoro il fai da te e questo se vuoi vedere il processo di costruzione è molto rapido. Dopo questo video clicca il link in descrizione dove trovi i link vari per acquistare gli anelli di inversione suggeriti da me e per trovare i miei account TikTok e Instagram dove troverai il video dedicato a questa versione fai da te. Bene, vi sconsiglio di provare a realizzare. Guardatelo magari per curiosità. Ve lo sconsiglio perché costa veramente poco. Poi se come me avete soddisfazione nel crearvi da soli determinate cose se proprio non potete farne a meno, fate lo che vi posso dire ma fate attenzione a ciò che fate perché è un materiale delicato quello della fotografia. E appunto per questo voglio darvi alcuni consigli proprio specifici nell'utilizzo di questo aggeggio meraviglioso. Allora, ci sono dei provi e dei contro. Come in tutte le cose, intanto se non avete mai provato a fare macrofotografia dovete prepararvi a una cosa, ovvero che è un mondo completamente diverso ovvero la profondità di campo, ad esempio, si riduce drasticamente proprio. Cos'è la profondità di campo? Devi seguire qualche corso di fotografia se non lo sai ma te lo spiego così proprio in maniera velocissima. Immagina di farmi un ritratto, ok? Da qui con un'ottica qualsiasi. Metti caso che hai un 50 mm, 1,8 vai. Metti a 1,8 da una distanza che ne so, mi prenderai una porzione cioè qui sarà fuoco mentre da qui in poi sarà tutto fuori fuoco, ok? Anche da qui in avanti. Bene, quell'area è la profondità di campo. In macrofotografia questa si riduce in un modo pazzesco quindi c'è un pelo. Se hai magari visto e notato nelle immagini e nei video all'inizio eccole qui, troviamo un'area di messa a fuoco piccola. Infatti alcune formiche che stanno dietro in realtà stanno dietro alle altre formiche di pochi millimetri già sono fuori fuoco. Quindi c'è anche questo su cui prestare la propria attenzione se si ha la volontà di provare a fare macrofotografia. Bene, andiamo a capire come scegliere l'anello adatto alla nostra macchina. Io intanto vi lascio nella descrizione una serie di anelli di inversione che ho scelto proprio per voi per questo video e che ne so, con l'attacco Nikon, Mirrorless, attacco Nikon, Reflex, Canon, Sony, Olympus e via discorrendo. Tutto quello che ho trovato lo lascio lì sotto. Poi se avete altri dubbi scrivete un commento che sarò felice di aiutarvi. Poi andiamo a vedere un attimino una cosa molto importante il diametro del filtro. Cos'è? E perché devo saperlo? Perché questo si va ad avvitare proprio come i filtri nella parte frontale dell'obiettivo dove troviamo la filettatura. Qui troviamo anche, nelle varie scritte, il simbolo del diametro e la misura appunto del diametro filtro. Eccolo qua, questo che vedi in sovraimpressione. Lo troviamo o qui intorno oppure sul barilotto. Questo nella maggior parte dei casi. Lì ci andremo a mettere la parte dell'adattatore che, come vedi, è semplicissimo. Da una parte c'è la filettatura e dall'altra parte la baionetta della fotocamera andremo ad avvitarlo. Io vi consiglio di fare una cosa. In questa circostanza, intanto, pulite sempre con la pompetta d'aria, questa che vi suggerisco, la filettatura sia dell'adattatore che dell'ottica. Questo vi ridurrà il rischio di rovinare le filettature o che si blocchi. Poi, nel caso si blocca, ci sono anche degli strumentini economici che vi lascio in descrizione e vi consiglio di avere soprattutto se usate i filtri. Bene, si va ad avvitare anziché andare subito in senso orario. Andiamo in senso anti-orario. Ma questo su qualsiasi cosa che abbia una filettatura. Perché? Perché vi permetterà di far combaciare bene la filettatura e quindi di non andare a sforzare. È un trucchettino, mettetelo da parte. È molto comodo. Si avvita bene. Poi andiamo a vedere il simbolo che va fatto combaciare con la nostra fotocamera e voilà! Pronta all'uso. Ho scelto un'ottica vintage. Qualcuno magari l'ha notato. Perché? Perché le ottiche vintage hanno, penso tutte, il controllo del diaframma manuale. perché quando usiamo questi anelli ci sono anche quelli che riportano poi i contatti ma sono più complicati e costosi e perdiamo tutti i controlli. La macchina non può comunicare più con l'obiettivo come accade con gli altri che hanno il fuoco automatico, la stabilizzazione, il controllo del diaframma. Qui non c'è. E quindi io ho scelto in questa circostanza un'ottica, diciamo vintage, manuale. Ma anche se usate il vostro obiettivo molto probabilmente il diaframma si chiuderà. Cosa che vi darà in qualche, in un certo senso, un vantaggio. Il vostro obiettivo intanto obiettivi con messa a fuoco e controlli automatici. Attenzione, non manuali. Un vantaggio perché ridurrà la profondità di campo, cioè la ridurrà, l'aumenterà la profondità di campo un diaframma chiuso. Oltre che avere comunque anche influenza poi sull'effetto della qualità finale dell'immagine. Ora, dobbiamo fare attenzione a una cosa. Io non sempre ho apprezzato questo sistema perché si espone la lente posteriore dell'obiettivo a qualsiasi cosa. Ed è la lente più importante di quelle esterne che sono presenti nelle ottiche. Perché in alcuni casi se ci sono dei lievi segni sulla lente frontale meglio non averli. ma se ci sono e sono lievi in alcune parti neanche si notano. Qui invece qualsiasi imperfezione in foto la vedi subito e immediatamente quindi rende la lente inefficace. Quindi al numero uno di posto perché non usare questo sistema eccolo perché espone a rischi la lente posteriore ma basta farci un po' di attenzione. Il secondo rischio è che se noi usiamo la stessa ottica poi montata nel senso giusto io non lo posso fare perché questa è un'ottica vintage cioè lo posso fare attraverso un adattatore apposito beh se lo facciamo dobbiamo pulirla bene perché se ci dimentichiamo tutte le polveri che si sono depositate qui magari abbiamo fatto delle foto in natura e quindi è inevitabile le andiamo poi a riportare in automatico all'interno della macchina. Quindi è importante come nota numero due questo fare buona manutenzione e pulizia dell'ottica prima di rimontarla al contrario. Bene detto questo non ci sono grandi problematiche grandi difficoltà mi raccomando vi consiglio sempre di maneggiare attentamente la testatura di non entrare nel panico qualora si blocchi la filettatura o magari andate a svitare erroneamente l'obiettivo e la macchina rimane solo con l'adattatore perché anche questo si toglie facilmente basta utilizzare la logica la calma e non fare cose con l'agitazione come può capitare in certe circostanze e vi do un altro consiglio ovvero quando andate a fare fotografia video è un po' più complicata a mano libera perché i minimi movimenti si vedono se fate foto agli insetti o alle piante anche il vento è una cosa devastante comunque vi consiglio in modalità di messa a fuoco manuale macro se siete a mano libera perché magari vi piace farlo di appoggiare bene la macchina sull'occhio e muovere non la mano per la messa a fuoco ma avanti indietro in maniera millimetrica la testa fino ad ottenere una messa a fuoco ci sono anche molti altri sistemi ci sono le slitte per la messa a fuoco che vanno sul cavalletto ce ne sono anche di economiche ve le lascio tutto quello di cui potete avere bisogno in descrizione anche una soluzione che ho usato io che uso per la l'attacco Ganon RF che ovviamente è diverso da questo ma possiamo trovare delle soluzioni anche economiche sfruttando altri adattatori per usare questa lente di inversione su RF è molto semplice oppure vi lascio anche proprio quella per RF se avete insomma Ganon volete provare e sperimentare questa bella cosa che si può fare con le ottiche di scusate con i filtri di inversione gli anelli di inversione non filtri bene vi rimando a dove eccolo qua a quel paese no a vedere il video dove costruisco questo lo trovate sui miei canali Instagram TikTok quindi Valerio Errani e dateci un'occhiata ditemi cosa ne pensate e voi avete usato cose simili le volete usare avete dei dubbi lasciatemi comunque un commento che aiuta la posizione di questo video lasciate un like iscrivetevi per vedere altri contenuti simili se avete dubbi e domande sono qua grazie e buona luce